Anna Maria Antoniazza, tu sei Legal & Commercial Executive Manager di Accenture Italia. Hai quindi un posto molto importante all'interno della tua azienda che è una multinazionale. Tu sei milanese di origine, vivi e lavori a Roma e sei stata una delle prime in Italia a rendere pubblico il tuo percorso di transizione di genere. Prima di tutto per sensibilizzare il mondo professionale, aiutare tutti a capire che in un mondo dove tu puoi essere te stessa sicuramente lavori meglio tu e lavorano meglio le persone intorno a te. Io da 15 anni che lavoro per Accenture SPA, come hai detto tu ricopro attualmente l'incarico di Legal & Commercial Executive per il mercato assicurativo italiano e ho sempre lavorato sulla sede dei clienti della multinazionale. Quindi sulla sede dei clienti ho fatto il mio percorso di transizione, questa è l'altra particolarità della mia storia. Considera che io entro a lavorare in Accenture non come Anna Maria ma come Andrea. Andrea era un bellissimo ragazzo, molto carismatico, estremamente solare e che amava da morire e viaggiare per il mondo. Andrea però all'età di 32 anni era diventato veramente triste e cercando di capire bene questo motivo ha scavato nella sua infanzia. Io in realtà ho avuto sempre dentro di me un segreto che con difficoltà ho avuto il coraggio di guardare, che a 32 anni improvvisamente è esploso. Non è un'età casuale l'età dei 32. Io ho conseguito due lauree, la prima in economia e commercio e con quello ho subito iniziato a lavorare come consulente in Accenture e poi contemporaneamente lavorando in Accenture ho portato avanti la seconda laurea in giurisprudenza specializzandomi poi in diritto delle tecnologie informatiche, in particolare nella tutela giuridica dei programmi per il laboratore. E considera quindi che ho finito la prima laurea a 23, ho subito iniziato a lavorare come consulente e a 29 ho terminato la seconda. La vita che ho fatto fino ai 30 anni non era una vita di riflessione personale perché la settimana lavoravo e il weekend e le sere della settimana le passavo sui libri di giurisprudenza. Non avevo avuto il tempo di metabolizzare una verità che portavo dentro di me fin dall'infanzia. Ecco perché ho iniziato tardi con il percorso di transizione. Considera che io ho avuto un'adolescenza molto bella ma un'infanzia particolarmente brutta perché era il classico bambino bambina, quindi molto femminile, con i capelli lunghi, dalle movenze gentili e l'infanzia è stata brutta perché in più di un episodio diversi bambini si prendevano a gioco di me, di una mia compagna di classe portatrice di handicap e poi di un altro bambino che era alto in modo spropositato rispetto alla sua età e questo gruppo di bulli, di baby bulli, oltre a prenderci in giro spesso e volentieri arrivavano a delle violenze che andavano ben al di là ovviamente del verbale e io durante l'adolescenza poi ho proprio scritto ricordando questi episodi di infanzia una poesia dedicata al bullismo che se vuoi ti posso leggere. Va bene. Si intitola Vedo un bambino. Vedo un bambino dagli occhi d'inchiostro, un gomito e la sua scrivania, i compiti ancora da fare e i versi della sua infanzia. Una pelle bianca bucata qua e là, da un naso o da una ferita. Le mani del mio bambino giocano con la carta, una pianura di rovi dove correre e sanguinare sono la stessa identica cosa. Ha il viso sfigurato il mio bambino, una guancia di fessure e un labbro spaccato. Questo mostro di infanzia adesso è un adulto e sono io. Quindi nell'infanzia c'era già la percezione anche da parte degli altri di una diversità rispetto a un'idea di normalità. Cioè non eri una persona normale, avevi qualcosa di diverso. Quali sono stati i punti di riferimento per quanto ti riguarda? Cioè al di là degli atti di bullismo, quali sono state invece le figure che hai sentito che ti hanno accompagnata? Io sono stata cresciuta da mia nonna Marisa che è stato il grande modello di riferimento per la mia vita. Ho sviluppato un carattere praticamente identico al suo. Io ricordo sempre quando veniva la notte prima di addormentarsi, a sussurrarmi nelle orecchie, mi raccomando studia nella vita perché solo così diventerai una persona libera e che ragionerà con la sua testa. Queste parole ancora mi rimbombano perché per mia nonna la libertà era prima di tutto l'indipendenza economica e mentale, non aver bisogno degli altri. Solo così riuscivi ad essere te stessa e camminare per la tua strada. Mi diceva inoltre mia nonna un'altra cosa molto bella. Mi diceva frequenta sempre chi è migliore di te perché altrimenti torni a casa la sera che non hai imparato niente. Lei era una donna molto schietta, non si faceva problema a dire in faccia alle persone quello che pensava di loro. Nonostante fosse poi una donna molto piccolina di statura è sempre riuscita a imporre la sua posizione ma con estrema eleganza. Non l'ho mai sentita gridare una volta, non ha mai avuto atteggiamenti offensivi verso il prossimo e forse il suo parlare tante volte anche con il silenzio ha rappresentato la sua forza ai miei occhi. Ma lei rimane il mio grande modello di riferimento, oltre ovviamente ad altri modelli che sono i modelli più letterari, le letture che ho fatto durante l'adolescenza e che mi hanno formato come persona con la P maiuscola. Tu considera che quello che è stato un po' il mio cammino di fioritura come persona oltre a essere passato da mia nonna che è stata diciamo la grande madre della mia vita è passato attraverso gli studi in un seminario vescovile perché io dalla prima media alla quinta superiore ho studiato in un seminario e quindi la mia formazione è passata attraverso lo studio, la lettura, io ero un topo da biblioteca, ho trascorso l'adolescenza con il dizionario di latino tra le mani e all'ultimo piano di questo seminario il ricordo sempre che c'era una bellissima biblioteca di libri antichi dove ho avuto l'opportunità di conoscere diversi autori. Ovviamente un po' filosofici, un po' religiosi erano i due ambiti a me preferiti anche per il tipo di struttura nel quale mi trovavo. Sicuramente a livello filosofico Nietzsche, quindi la genealogia della morale, così parlò Zeratrusta, sul fronte religioso invece ho avuto due autori che hanno proprio segnato la mia adolescenza che sono il primo è Giussani con il volume primo del percorso che è stato fondamentale nella mia vita perché nella mia religiosità ha introdotto una dimensione di Dio come dimensione del mistero e c'è una preghiera bellissima di Giussani, una preghiera che si intitola Per quando si è tristi e stanchi che recita una frase che ho fatto tesoro per la mia vita. Le due grazie che il Signore dona sono la tristezza e la stanchezza. La tristezza perché ti obbliga la memoria e la stanchezza perché ti obbliga le ragioni per cui fai le cose e che termina poi questa preghiera con una frase ancora più bella cioè tu che hai fatto tutti gli esseri sei per il bene, tu sei l'ipotesi positiva su tutto ciò che vivo. E l'altro autore a me molto caro Escrivà che è tornato ovviamente più utile in quella che è la dimensione professionale in particolare il solco e il cammino perché Escrivà mi ha aiutato molto a cercare Dio in quello che è il lavoro quotidiano. Escrivà diceva come fa un lavoro ad essere di Dio se hai fatto male, se hai fatto in fretta, se hai fatto senza competenza. Io credo da persona religiosa e cristiana quale continua ad essere che non c'è dono più grande del nostro talento e il nostro talento va sviluppato a 360 gradi e a prescindere dalla fatica che dobbiamo fare per essere sempre all'altezza del piano che Dio ha messo su di noi. Tu hai studiato tanto, hai detto che hai passato i primi 30 anni della tua vita a studiare moltissima, hai appunto due lauree, sei una manager quindi hai un lavoro di grande rilievo, di grande responsabilità. A un certo punto però ti è accaduto qualcosa che al di là del tuo percorso personale, quindi questo percorso di transizione che hai accolto perché era appunto un bisogno personale intimo, ti sei trovato in una condizione in cui probabilmente ci troviamo tutte e tutti prima o poi. C'è una condizione di crisi che è passata per la sofferenza. Assolutamente sì, ce l'ho avuta appunto a 32 anni. L'ho avuta una sorta di break even point perché sono riscopiate dentro di me queste verità infantili e ho capito a un certo punto che non potevo più andare avanti a vivere così. Il mio problema non era di orientamento sessuale, tengo sempre a specificarlo. Il mio era un problema di disforia di genere, cioè io vivevo in un corpo che non sentivo come mio e di conseguenza mi sono rivolta ovviamente con grande insicurezza, grande coraggio, grande instabilità interiore ad una struttura pubblica accreditata che è il San Camillo di Roma e che ha seguito passo dopo passo gli step di questa trasformazione. Tu considera che io ero un ragazzo estremamente febico, quindi ho intrapreso questo cammino di trasformazione per diventare quella donna che sognavo di essere e che è passata attraverso due anni di terapia ormonale. Due anni quindi a base di androcur, di proginova e il tuo corpo cambia, cambia di mese in mese, sparisce la barba, i capelli diventano ancora più lunghi, si sviluppa la ghiandola mammaria, quindi il seno. Di conseguenza inizia a vivere in un corpo diverso rispetto a quello che eri abituata da uomo ed è una transizione stupenda. Io per accompagnarmi con dolcezza in questi due anni che cosa ho fatto? Ho iniziato a viaggiare tantissimo perché già da ragazzo viaggiavo molto ma prevalentemente in Europa e negli Stati Uniti. Quando ho iniziato la transizione ho deciso basta, basta Europa e basta Stati Uniti, andiamo in Cina, andiamo in Australia, andiamo in Sudafrica, andiamo in Brasile, sempre nella stessa modalità però che avevo da ragazzo, quindi zaino e spalla, ostelli della gioventù in queste comunità internazionali di ragazzi che prima si incontravano a Pechino, poi si rivedevano a Sydney e per finire magari a Johannesburg piuttosto che a Rio de Janeiro. E al termine di poi di questi due anni in cui viaggiavo ovviamente con una doppia valigia perché ci sono periodi di questa transizione in cui il tuo aspetto è estremamente ambiguo. Il momento più imbarazzante quando ovviamente elimini la barba attraverso gli antiandrogeni e la laser terapia. Quel momento è imbarazzante perché ovviamente devi aiutarti con un abbigliamento che ancora non è né da donna né da uomo, vai sul neutrale, usi anche un trucco che non è eccessivo per non creare le cosiddette ambiguità sociali. Quando entri in un negozio, quando vai in palestra, quando ti rapporti qualcuno in un bar. Quello è l'unico momento in cui oltre alla crisi iniziale che ha scaturito tutto mi sono sentito ovviamente in imbarazzo. Adesso io sono felicissima della mia vita e ho un ricordo estremamente piacevole della transizione. Sono diventata la donna che volevo essere, quindi finalmente posso definirmi una persona felice. Ho vicino a me un compagno stupendo, istruttore di palestra, molto bello e molto coccolone. Siamo insieme da tre anni, siamo come marito e moglie e viviamo come tutti. Andiamo a fare la spesa, cuciniamo, andiamo in palestra insieme, abbiamo una vita sociale perfettamente integrata. Ovvio la mia testimonianza vuole essere una testimonianza positiva perché tu sai meglio di me che quando si parla di transessuali purtroppo i casi non sono mai di successo. Infatti tu ci teni molto a sottolineare la normalità, il fatto che hai intrapreso questo percorso di transizione ma che non sei un essere strano ma sei una persona normale che è una donna e che fa una vita normale, quindi fa quello che fanno tutte le altre persone. Ci teni moltissimo a sottolineare quanto questa scelta sia una delle scelte possibili, che sia appunto un percorso che ha a che fare con armonizzare ciò che si prova e che si sa di essere con l'aspetto esterno e quindi dare anche l'idea che le persone transessuali non devono isolarsi o essere spinte appunto, essere escluse dalla società come è successo quasi sempre in quasi tutti i casi ma sono delle persone che appunto come nel tuo caso sono delle persone normali che possono continuare a fare il lavoro che stavano facendo, quindi le manager come appunto lo fai tu. C'è però un punto di particolare attenzione, bisogna essere molto autoironico nella vita e sapersi anche vendere attraverso le parole, i discorsi, la sensibilizzazione del tuo interlocutore. Tu quando inizi a fare questi percorsi prima di tutto devi avere alle spalle una famiglia che ti supporta. La mia forza ovviamente non è stata solo mia nonna, è mio padre, è mia madre che hanno sempre creduto in me. Io ovviamente sono stata una figlia modello per loro perché sempre secchiona, prima della classe, bravissima scuola, molto ambiziosa, lavora 15 ore al giorno, non ho mai dato problemi o preoccupazioni particolari. Il loro problema è che tornasse a casa con un 26, non con un 30 agli esami dell'università. non si sono mai curati, né mai gli è interessato, sono entrati in modo aggressivo in quelle che erano le mie dinamiche interiori. Mia madre ovviamente lo sapeva fin dall'infanzia, lei mi ha chiamato Andrea, ma ha sempre tenuto i capelli lunghi fin da bambina, proprio per questo motivo. E quando poi mi sono confrontata con lei che l'ho detto, mamma guarda mi sono rivolta ad una struttura pubblica, sto intraprendendo, senza ovviamente averne la certezza questo percorso, mia madre mi ha detto, fosse stato per me, ma non mi sono mai permessa, avresti dovuto iniziare molto prima, hai trascorso troppi anni della tua vita senza pensare a qualcosa che in realtà dentro di te era già scritto. E io ovviamente però pensavo a studiare e a lavorare, quindi sono arrivato in ritardo rispetto ovviamente al disegno che magari già mia mamma sentiva essere fatto su di me. Ma tornando alla dimensione ad esempio sociale, la dimensione sociale è fatta dell'ufficio, è fatta della palestra, è fatta dei propri amici intimi ed occasionali, ad esempio le persone che incontri al bar la mattina. Tu devi essere molto autoironica quando inizi questi percorsi, perché non sai mai, in base alla tua reattività soggettiva, come gli ormoni prenderanno possesso del tuo corpo. Gli ormoni in qualche modo sono anche dei veleni, bisogna rivolgersi, questo lo consiglio sempre, a strutture sanitarie pubbliche, abbandonare la logica del fai da te, affidarsi a professionisti del settore attraverso dei protocolli sanitari certificati e che ti accompagnano in quella che è sia la tutela della tua salute, sia la tutela dei tuoi diritti agli occhi dello Stato, perché ad oggi tu puoi cambiare sesso anche da un punto di vista documentale senza dover fare la riattribuzione chirurgica del sesso, quindi il cosiddetto intervento di vaginoplastica, che è un intervento estremamente invasivo e che non tutte le persone transessuali sentono di dover fare, perché quando tu diventi transessuale, e questo ci tengo molto a sottolinearlo, tu aderisci ad un modello di vita al femminile. Questo non vuol dire che devi per forza sentirti donna al 100%, perché neanche una donna biologica o un uomo biologico dentro di sé ha una percezione della propria identità come totalmente al maschile o totalmente al femminile. E questa è una grande avanguardia giuridica dell'Italia, il fatto che noi riconosciamo lo stato di donna ad una cittadina che cambia sesso, anche se questa cittadina non si è sottoposta all'intervento chirurgico di vaginoplastica. Sì, questa è appunto una delle grandi conquiste della cultura contemporanea, il fatto che di aver messo in chiaro, e questa è una delle grandi idee femministe degli anni 60-70, c'è l'idea del genere, il fatto che il genere ha a che fare con una costruzione, per cui non è detto che se hai certi attributi sessuali, quindi certi genitali, questo significa che ti devi sentire automaticamente appartenente a un genere anziché a un altro. E questa cosa è stata importante perché negli ultimi decenni si è cominciato a riflettere e a cercare di capire quali sono i condizionamenti, quindi probabilmente è anche una fortuna il fatto di vivere in questo periodo in cui certe terapie sono possibili e quindi non ci si deve sentire anormali appunto per delle percezioni che si hanno del proprio corpo, per come ci si sente di essere. E in effetti in Italia nel 2016 c'è stata una sentenza che prevede appunto il non requisito necessario di vaginoplastica per dichiararsi donne, cioè possono esserci vari percorsi ma soprattutto sei tu, è la tua affermazione, il fatto che tu dichiari di essere donna che poi ti permette di fare questo percorso di affermazione anche a livello legale, quindi nei documenti. Ci sono 24 mesi mi sembra. Allora il percorso varia poi da persona a persona. Tu in realtà parti con un ricorso verso lo Stato per vederti riconosciuto lo Stato di donna e ovviamente questo parte con la rettifica del tuo atto di nascita fino ad arrivare al codice fiscale, patente, documenti di identità. Ed è un magistrato che ovviamente decide sulle tue sorti. Il magistrato sulla base di cosa decide? Sulla base di un fascicolo. Il fascicolo viene prodotto dall'ospedale che ti ha seguita, che contiene la relazione dello psicologo, la relazione dell'endocrinologo e a quel punto tu depositando presso il tribunale la richiesta, diciamo nella maggioranza dei casi questa viene accolta. Ma è anche corretto che il ricorso venga corredato da della documentazione prodotta da una struttura sanitaria pubblica per evitare casi di pazzia o di persone magari incapaci di intenderlo di volere o persone che non sono completamente convinte perché dopodiché tu hai il grande vantaggio giuridico di essere trattata come donna nel momento in cui vai in ospedale, vai in palestra, ti ferma per esempio un vigile urbano che ti chiede la patente. Io ho avuto la fortuna di chiamarmi Andrea e di poter, diciamo, in modo totalmente pacifico anche aggiornare i documenti con la mia ultima fototessera senza far risultare ancora il cambio ma se mi fossi chiamata Marco o Giacomo magari avrei vissuto una situazione di possibile offesa o di non chiarezza. Qual è la mia identità? Perché quello che conta agli occhi della giurisprudenza della dottrina non è quello che è la tua genitalità ma è quello che tu sei e che tu sembri. Del resto noi non camminiamo per strada nudi, noi camminiamo per strada vestiti o da uomini o da donne sulla base del nostro fenotipo di appartenenza se maschile o femminile automaticamente è giusto che abbiamo anche un inquadramento giuridico soprattutto laddove c'è tutto un percorso di psicologia e di endocrinologia alle spalle. Considera che il mio è stato un percorso felice e questo non vuol dire che sia stato un percorso facile. Io ho raggiunto l'obiettivo che volevo e sono diventata la donna che volevo essere. Ma in questi 24 mesi di terapia ormanale tuvi incontro anche alla depressione perché ad esempio le sostanze antiandrogena abbattono completamente la produzione del testosterone. Quindi diventi una persona estremamente fragile da un punto di vista emotivo, ti innamori con estrema facilità, piangi quando vedi un film anche solo un po' romantico, diventi un'anima che non capisce più bene da che parte andare. Quindi sono 24 mesi di viaggio interiore che sono assolutamente interessanti, io ne ho un bellissimo ricordo ma in quei 24 mesi vivi anche tanti momenti di vuoto, di burrone. Questa è la parola corretta. Anche perché non hai ancora davanti a te il risultato finale, quindi non hai neanche degli strumenti per giudicare concretamente cosa tu diventerai. Perché poi nel passaggio di sesso, questo spesso si dimentica, tutte le persone, anche l'opinione pubblica, pensa sempre alla dimensione sociale. Oddio, ma la transessuale in che bagno va? In che spogliatoio va? Ma quando va in piscina? A me verrebbe tante volte da dire che se ognuno si facesse gli affari propri forse viveremmo tutti meglio perché io non mi faccio questi problemi di fronte alle altre persone, per quanto bizzarre possano sembrarmi. Ma in realtà le persone si occupano sempre di cosa succede, come dicevo, in palestra, nello spogliatoio, piuttosto che in piscina. Ma quello che cambia tanto della tua vita è la tua dimensione interiore, è come tu vivi dentro casa. Non è tanto come vivi fuori, perché nel momento in cui tu esci fai un cambio di sesso da maschio a femmina. Sei già di partenza un ragazzo effebico, quindi che già da ragazzo nel momento in cui provavi a travestirti avevi un buon risultato finale. Quello che cambia non è tanto la sfera sociale, perché magari già da prima sei abituata a vivere in quel modo, ma è la gestione domestica. Cambia, ad esempio, il tuo modo di vestirti. Non è più il pigiama, è la vestaglia, magari di raso, non è più le ciabatta, è infradito, magari è un bel paio di ciabattine da donna. Io ho dovuto svuotare intere cassettiere armali, dai boxer adesso mi ritrovo delle bellissime mutandine, i reggiseni, tutta una serie di shopping, di acquisti, che entrano a far parte di quella che è la tua intimità domestica. Cioè tu cambi il modo di rapportarti con quello che è il tuo armadio, il tuo specchio del bagno, le cose che metti a disposizione all'interno della tua vita, è quello che cambia. Sul lavoro, ovviamente, e diciamo nelle relazioni più o meno stabili della vita, lasciando perdere ovviamente la famiglia, nel mio caso, che è stata eclatante e di massimo supporto, tu devi educare le persone. Nel senso, gli devi dire, anche con molta simpatia, molta autoironia, molta intelligenza, e anche un po' di senso di critica positiva verso te stessa. Soprattutto le persone che magari non vedi tutti i giorni, ma che vedi magari una volta al mese, ogni tre mesi. Io facevo sempre la battuta e gli dicevo, guarda, adesso mi vedi in giacca e cravatta, ma preparati, perché fra tre mesi già la cravatta non ci sarà più. Loro mi chiedevano, ma come mai? Io ho detto, beh, lo vedrai, lo scoprirai col tempo, se ancora vorrai vedermi. E pian piano, ovviamente, levi elementi anche dell'abbigliamento tipici del maschio per iniziare a vestirti da donna, passando attraverso delle fasi di estrema neutralità, che sono indispensabili perché ovviamente il tuo aspetto non cambia all'improvviso, cambia nel giro di uno o due anni e con grande gradualità. Io infatti sono personalmente contrario ad una chirurgia plastica invasiva. Ho preferito la terapia ormonale perché così, in base ai dosaggi, potevi regolare l'effetto finale del risultato. E ovviamente alle persone che incontri poi nella sfera professionale, man mano che vanno avanti i mesi, io dicevo sempre una cosa, hai visto che era mai del completo da uomo è rimasto poco? Preparati perché a breve mi vedrai con un bellissimo tagliere da donna. E lì scoppiava una risata molto sonora di accettazione, di comprensione. Fai capire alle persone ciò che tu stai diventando. Tu non stai diventando un mostro, non stai diventando un alieno. Non arriverai in ufficio con una navicella spaziale da Marte. Continuerai ad andare con la stessa macchina, continuerai ad essere una persona profonda se lo eri prima. Ecco, ricordiamoci anche un altro aspetto importante. Se tu sei una persona stupida, sei una persona imbecille, sei una persona ignorante, non è che facendo la transizione improvvisamente diventi la fata turchina o vinci il Nobel. Continua ad essere ciò che eri prima, ovviamente in una nuova versione, seguendo un nuovo paradigma sociale, che è quello femminile e non è più quello maschile. Io ho un'altra grande paura, ti confiderò, che avevo. Io ero un bellissimo ragazzo e piacevo molto a maschi, femmini. Ho sempre avuto un grande successo sociale. Poi nella transizione ovviamente sono diventato una donna magari un po' discutibile, però avevo il terrore che diventando donna sarei rimasta completamente sola. In realtà non sapevo che, almeno in Italia, voglio dire, hai l'imbarazzo della scelta. Nel momento in cui diventi transessuale, automaticamente devi semplicemente scegliere il più bello tra tanti belli che ci provano con te. Magari scegli anche quello meno cretino per una questione di confronto umano, già che ci siamo. È un percorso di fioritura personale. In filosofia si parla di fioritura personale che è qualcosa di diverso rispetto alla crescita, perché la crescita, che è interessante nel senso che tutti i percorsi di crescita personale hanno comunque il loro valore e il loro interesse. Noi preferiamo in clon chiamarla fioritura perché significa che ciascuno è un fiore diverso e a volte non si rende conto di chi fiore è, per cui magari può essere convinto per tutta la vita di essere un certo fiore e di dover crescere secondo certi standard, e invece tutta un'altra cosa. Per cui il percorso di fioritura significa rinascere e magari rinascere più volte nel corso della vita secondo i propri tempi. Questo, il tuo è stato un percorso di fioritura? Beh, assolutamente sì. Come dice mia madre, mia madre ha avuto un parto gemellare però differito nel tempo. Quindi lei sostanzialmente ha avuto Andrea dagli 0 ai 32 anni e adesso Anna Maria. Io non mi chiamo Anna Maria per caso, io volevo chiamarmi Andrea Maria. Mia madre mi ha detto no, perché Andrea comunque conserva una grande ambiguità. Tu vivi a Roma e comunque il nome Andrea è molto più legato al mondo maschile che al femminile. Io se avessi avuto una donna come figlia l'avrei chiamata Anna. Allora ho detto senti facciamo pace, mi chiamo Anna Maria con Anna staccato Maria in modo tale che questo sarà il nuovo conio, il nuovo battesimo della mia nuova vita. Quindi io mi ritrovo assolutamente in questo concetto perché ho vissuto da maschio per i primi 32 anni della mia vita ed i 32 anni in poi sto vivendo da donna, ma è una cosa stupenda. Il tuo è stato un percorso fortunato perché grazie probabilmente alla tua grande forza e quindi anche appunto alla forza che hai dimostrato in questo percorso, grazie alla famiglia e grazie all'azienda in cui lavoravi. Perché Accenture è molto conosciuta proprio per l'importanza che dà l'inclusività nel contesto del lavoro. Come ti ha accompagnato? Ma assolutamente sì. Le HR manager in particolare nel momento in cui io ho comunicato a loro l'inizio del percorso di transizione hanno fatto di tutto per cercare di mettermi a mio agio e non creare situazioni di imbarazzo nella mia identificazione aziendale perché un'azienda è fatta sì di persone, ma è fatta anche del modo con cui le persone vengono titolate, chiamate. Quindi pensiamo sempre al tema. Io che svolgo un lavoro commerciale legale, quindi ho un contatto diretto con i clienti finali. È fondamentale il bigliettino da visita, la mail che tu utilizzi e tutto ciò ovviamente viene modificato. Nel momento in cui tu comunichi l'avvio del percorso e sei ovviamente ad una fase della decisione convinta di questa scelta, l'azienda non aspetta i tempi della giustizia italiana che possono essere molto lunghi. Accenture non li aspetta. Cambia ben prima della sentenza con la quale lo Stato ti riconosce il cambio di sesso, quella che è la tua anagrafica aziendale. Ad esempio io adesso spedisco le mail non più da Andrea, ma da Anna Maria. Mi hanno aggiornato il bigliettino da visita. Nel momento in cui una persona mi cerca in azienda, non mi cerca più come Andrea, ma mi cerca col mio nuovo nome. E questo ovviamente ti fa vivere con grande serenità. Poi ripeto sempre, io ho avuto la fortuna di venire da un nome da uomo che viene spesso utilizzato anche dalle donne. Però queste politiche ovviamente, nel caso di un dipendente che dovesse decidere il cambio di sesso e che si chiamasse ad esempio Carlo, Giacomo o Antonio, lo aiuterebbe ancora di più rispetto a quanto ha già fatto con me. Poi ho sempre avuto dei colleghi di lavoro stupendi che mi hanno accompagnato passo dopo passo e che ringrazio in modo particolare i miei due capi, che sono Giorgio e Delia, che hanno seguito sempre con grande sensibilità, delicatezza ed eleganza il mio percorso di trasformazione. L'ultima domanda. Come pensi che stia questo paese? Qual è lo stato di salute di questo paese, in particolare rispetto alla rappresentazione del diverso, di tutto ciò che è diverso, che poi la mia idea è che tutte e tutti siamo diversi, quindi in realtà chiudere un'idea ristretta di normalità significa comunque condizionare tutte le persone. Quali credi che sia lo stato di salute e cosa credi che si possa fare? Ti stupirò un po' con effetti speciali. Io non credo che la società sia fatta tanto di persone quanto delle parole che le persone usano per comunicare una con l'altra. E più il linguaggio è sbilanciato a favore di una dimensione di volgarità, di bestemmia, di offesa del prossimo e più sarà difficile creare un ambiente di serenità sociale. Porto sempre un esempio ai miei amici. Puoi mandare i tuoi figli nelle migliori scuole internazionali, ma se nel momento in cui tuo figlio torna a casa e sente te, come padre, come madre, dire bestemmi o commentare in modo offensivo una determinata notizia al TG, in quel momento tu non solo stai distruggendo il piano educativo che la scuola con tanta fatica sta cercando di portare avanti su tuo figlio, ma tu stai creando un bambino a tua immagine e somiglianza e un bambino maleducato diventa un adolescente e un adulto che non ha il senso di rispetto del prossimo. Ciò su cui noi dobbiamo intervenire è l'uso del linguaggio, dobbiamo imparare ad esprimerci correttamente. Non è possibile che quando prendo la metropolitana o vado in un bar sento sempre dire troppe poche volte grazie, prego gentilmente. Le persone di oggi, a prescindere dalla loro età, vivono una sottospecie di senso di onnipotenza, confondono se stesse con Dio, si sentono il diritto di poter giudicare e offendere tutto in modo indiscriminato e il consiglio che io voglio dare soprattutto ai genitori di bambini diversi è quello di tenere sempre le antenne alzate e di non far venire mai meno il sostegno ai propri figli indipendentemente da quale sia la loro diversità. Perché la società è fatta spesso da persone cattive, che sono cattive gratuitamente, ma se tu hai la capacità di amarti, allora nessuno, e dico nessuno, sarà più in grado di farti del male. Grazie